e vai raga da appena finita qui l'ultima partita sul campo di San Francesco della giornata qui con me c'è il CSI Stresa, abbiamo qui due giocatori facciamoli presentare Gabriele Girardano difensore Gabriele Labaiola attaccante iniziamo con un commento sulla partita il primo tempo i primi dieci minuti abbiamo faticato un sacco perché purtroppo non erano messi bene poi ci siamo piazzati meglio abbiamo fatto due cambi con un time out invece nel secondo tempo il secondo gol ci ha tagliato le gambe quindi abbiamo cercato di limitare i danni poi un po' di gioco è arrivato nel finale ma la sconfitta nel complesso può starci purtroppo abbiamo visto un tuo strabiliante gol anche da dietro le quinte ovvero fuori dal campo dicono che hai fatto un gol strabiliante è bellissimo vuoi descrivercelo? ma no, niente, calcio di punizione ho tirato sul pallo del portiere fortuna e bravura hanno detto la loro e la palla è entrata quello... no, una descrizione piccola anche della partita niente, ci è mancata quella grinta ma il gioco di squadra purtroppo è ancora un po' precaio perché siamo tutti nuovi però piano piano potremmo dire la nostra e adesso concluderei con gli auguri di Pasqua da parte tutta la squadra o sono tutti in dolce? sono tutti in dolce oh, gli auguri di Pasqua venite oh, gli auguri di Pasqua gli auguri di... oh, doi... vabbè, auguri di Pasqua, no vai, vai, viene, vieni, 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 bombe no, no, altro ciao, tanti auguri, ciao buona Pasqua e forse ci assisti